Una gioia prorompente e una serenità contagiosa si sono respirate sabato 1 ottobre presso la Cattedrale di Fano alla solenne celebrazione di ordinazione presbiterale di Don Matteo Pucci. Tantissimi fedeli che hanno partecipato alla liturgia assieme a tanti sacerdoti, diaconi e ministri che si sono uniti in preghiera accompagnando Don Matteo all'incontro con Dio, un incontro che farà di lui un pastore per il suo popolo. Non diventare un funzionario ha detto il Vescovo a Don Matteo, non entrare nella logica della prestazione, il tuo non è un mestiere. Allarga gli orizzonti, è la diocesi che devi servire. Cerca di dare il cuore e la vita fino alla croce. Nel silenzio il Vescovo ha poi imposto le mani su Matteo e dopo di lui tutti i sacerdoti presenti come segno di consacrazione che fa di Matteo un uomo di Dio chiamato ad essere pastore per la sua comunità. Tra le doti che il sacerdote è chiamato ad avere, parlare di Dio come colui che ne ha fatto esperienza, servire la diocesi con tutto il cuore e la vita e condurre tutti e ciascuno a Dio senza mai sostituirsi a lui. Doti queste che Don Matteo ha già dimostrato nel suo cammino di servizio nelle comunità di San Costanzo e Calcinelli e nell'impegno profuso presso il centro missionario diocesano. Alla fine della celebrazione Don Matteo, commosso e con le lacrime agli occhi nel ripensare ai tanti segni che lungo la sua vita il Signore ha mandato per indicargli la strada, ha voluto ringraziare tutti per la presenza e l'affetto dimostrato a partire dai suoi genitori che sono stati i primi a condurlo sulla strada del servizio.